La cena orientale, si mangia l'egiziano stamattina e stasera la cena, tutto bello, tutto fatto per noi. Stasera o stanotte saremo nella città di Aswan, domani avremo il giro della città di Aswan. A vostra destra c'è un funerale signori, guardate tutti questi si trovano a destra e a sinistra, un funerale. Le donne con il nero, le donne a destra e uomini a sinistra, c'è la moschia a vostra a sinistra per pregare sul corpo del morto e poi viene il sipolto. Il costo del pane, noi abbiamo signori il pane statale, cosa vuol dire il pane statale? Il prezzo meno dei prezzi del pane che si trova fuori. Costa nulla, vuol dire che con una lira egiziana si può comprare 20 pani, vuol dire con un euro 160 pani. Tu puoi comprarlo e rivenderlo con l'1.25, vuol dire con una lira 4 per 8,32. Immaginate da 160 a 32 la differenza. Noi due euro, mezza pagnotta. Questo è lo stato che dà per le famiglie, quelle che sono poveri. C'è quello che compra e vende, c'è quello che compra per sua famiglia, perché le famiglie sono numerose qui. Le fotocopiatrici. La prima volta che non arriva a fare la scuola. E' questa scuola che si fai un buone. E' la scuola che si ha avuto una scuola. E' la scuola che non sento un buone per il video. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti